è che è una bella giornata con la mia ma che stai cucinando? no come stai? ma che pazza ma che pazza? ma chi è? Giacomo Giacomo ti ha ridi? ma che bello hai ma che? ma che? tra D.H.L. D.H.L. l'ho visto ma che pazza ma che pazza ma non è pazza ma è una fila papà non è la foto, è un video aah un video guarda quattro venga papà di hobito si è un video si è un video aah gufrei si è un video haiают para che pazza Sì, è buon fare. andiamo a eliminare come sono eliminati come sono eliminati vieni qua, ti riporti lì andiamo, andiamo andiamo, andiamo 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 ma è troppo una regia tipo MTV tipo MTV tipo MTV sai cosa tutto molto Giochiamo Giochiamo Corriamo Giochiamo Valerio Guarda 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 è qua poi ma Grazie a tutti.